e andiamo in casa palmese il presidente Sergio con noi presidente buonasera ben ritrovato buonasera un abbraccio a tutti quanti di studio radio era attesa un po' questa trasferta in casa dell'archi da parte della palmese che ottiene questa vittoria per tre a due c'è un ostacolo importante sul cammino della palmese vi consente di guardare sicuramente con maggiore serenità da qui in avanti centrate quella che è la quinta vittoria consecutiva quindi un buon momento preparando poi un altro momento importante della stagione lo scontro diretto con la vigor la mezza lì si riaprono i conti vedremo cosa accadrà sì dici bene oggi è stata una partita che speriamo era molto complicata ed è stata complicata una squadra che realmente è messa in campo non molla un attimo una squadra che ha fatto gruppo e secondo me è difficile venire qui ad archi e fare il risultato molto difficile infatti sono messi in grande difficoltà non abbiamo fatto una bella partita per essere sincero sicuramente molto più in merito loro che di merito i nostri e niente poi la cosa che che tra virgolette c'è un po' di tanto secondo me è stato il fattore un po' fisico alla lunga che si è fatto un po' più fuori livello fisico parliamo abbiamo avuto qualcosa in più da spendere loro hanno dato tutto quello che potevano anche i cinici hanno fatto tre tiri due gol dunque applauso loro per questo e noi per essere sinceri siamo stati bravi anche fortunati che ci abbiamo graduto fino alla fine e nel secondo di recupero siamo riusciti a ribaltarla ma sapevamo che era una partita difficile e non eravamo consapevoli ma ripeto sarà per tutti perché vada perché vada là non sono non è facile fare il risultato lì non è facile sì eh diverse squadre hanno lasciato punti importanti per lo sport in cadenzaro lì oppure ha avuto difficoltà in casa dell'archi allora presidente le tiratine d'orecchie sono servite ai ragazzi un po' tutto l'ambiente ha recepito con molta serenità l'hai fatto anche attraverso la radio e questo gruppo sta dimostrando di poter fare però qualche fare bene in questo campionato qualche qualche novità immagino ci ci sarà comunque sì allora la prima cosa importante l'hai detto Focufa tu ora si è formato il gruppo infatti oggi ha vinto il gruppo non ha vinto il singolo è stata la voglia del collettivo che anche ripeto non giocando bene come in genere noi giochiamo non abbiamo giocato oggi bene però la voglia del gruppo ha fatto venire fuori il risultato e questo è da un mese che che questa chiamiamola amalgama di di giocatori si è formato sì è pur vero che ora si apre anche il mercato qualcosa prenderemo qualcosa abbiamo già preso e perché comunque ormai dobbiamo aggiustare qualcosa che sapevamo che avevamo difficoltà oggi tra l'altro ci mancava misale misale Scarfo Pasini Ortucci portiere eravamo un po' combinati un po' male perché purtroppo gli ultimi giorni hanno avuto quasi 5 febbre insomma particolari non lo so per qualche motivo strano e dunque niente ora prenderemo questo questa settimana che è importantissimo perché comunque come ti ho già detto ci sarà questa grande partita a Palmi tra scontro di diretto dove si inizierà a capire meglio qualcosa perché comunque non ci nascondiamo lo scontro di diretto è importantissimo tra le due migliore squadre tra le due tre quattro migliore squadre insomma di questo campionato noi cerchiamo di essere pronti ripeto con il calciomercato Bargas l'abbiamo già detto ma non è solo Bargas arriverà qualcun altro sempre per il reparto avanzato perché la voce radiomercato come si suol dire parla anche di un interessamento di Bruzzaniti tra parentesi apro e chiudo sembra che l'ardore abbia chiuso però poco in diretta Romeo il team manager del San Luca ha detto però devono passare prima da noi loro vanno dove vogliono guarda io con il giocatore Bruzzaniti mi leggo una grande amicizia che va di fuori del campo dunque giusto per spiegare stiamo grandi amici al di fuori dal ruolo che lui ricopre del giocatore e non ti nascondo che non oggi ma io già all'inizio campionato ho sempre provato a convincere Mimìa a venire alla Pallonesia l'ho provato in mila modi a farlo venire a convincerlo e lui non ha voluto proprio motivi perché faccio la discende di promozione non me la sento e allora io giustamente non ho più insistito perché è una questione non tanto economica quanto proprio ripeto di categoria e ho mollato poi non ti nascondo che vedendo come da facebook comunque si era anche avvicinato all'ardore non so i termini le condizioni o altro non entro in merito io l'unico che ho detto a Mimìa è tu guarda ma se devi scendere proprio nella categoria visto che prima vuoi scendere perché non non vieni da noi ma questo perché ripeto è da mesi che io me lo corteggiavo e lo corteggio ma ripeto perché siamo grandi amici non peraltro dunque dove andranno lo so sicuramente a noi a Palmi l'unica cosa che ci possa impedire questo è perché c'è la distanza forse ovviamente l'ardore è più vicino ad africo e potrebbe essere più comodo poi sempre san luca permettendo è normale però alla fine se il giocatore non vuole stare in un posto come si dice credo eh poi non so e penso che vada via se non vuole stare o comunque nella società se lo vede che sta contro voglia non lo tiene sicuramente ripeto se andrà l'ardore sarà quello che ha raggiunto che ha bruciato in promozione e tante roba eh certo un grande attaccante un attaccante caratteriale non ha paura ti fa la differenza lo fai in serie di la sta facendo in serie di quindi immaginiamo in promozione non mi sono nascosto io da da mesi ho provato a convine non è oggi sono mesi che ci scazzo sempre dico ma ma pensaci ma vieni della qualsiasi ho provato ma lui sempre con la categoria giustamente mi diceva non posso e ancora oggi credo che siamo su su questo binato poi ripeto io non so al San Luca cosa vorrà fare se se ne preverà se ne ha bisogno quello che ti posso dire che ho visto come è di un mio pubblico una foto con una foto che hanno pubblicato sì l'avvocato insieme a lui su facebook lo diceva work in progress dunque non ti so dire esattamente come andrà a finire va bene io penso a me stesso c'ho bar che se l'ho già preso prenderò un centrocampista probabilmente anche un difensore forse qualche altra cosa e poi basta perché adesso comunque tutto confermato grazie a tutti